La provincia di Salerno, con decreto del Ministero dell'Istruzione numero 13 dell'8 gennaio 2022, ha beneficiato di un finanziamento di 19.751.480 per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2020. Abbiamo suddiviso il finanziamento, dichiara il presidente Michele Strianese, in 10 progetti da 2 milioni e riguardano complessivamente 50 edifici scolastici come da prospetto riportato in calce. Il settore edilizia scolastica e patrimonio, diretto d'Angelo Michele Lizio, ha proceduto agli affidamenti dei servizi di progettazione, quindi nei prossimi mesi saranno redatti i progetti esecutivi per poi passare alle aggiudicazioni dei lavori che dovranno rispettare le scadenze del 31 dicembre 2022. A questo lavoro svolto con professionalità e dedizione si affianca ora il supporto del consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica Martino Donofrio. Si tratta di un importante lavoro di squadra, conclude Strianese, che ci ha portato a ottenere questi ottimi risultati per i nostri territori. Per noi è prioritaria alla fruizione e in sicurezza degli ambienti scolastici, cosa che permette alla provincia di Salerno di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. Qui non è in gioco solo il diritto allo studio, ma anche il diritto alla salute e alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche. Aggiungo inoltre che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.